buongiorno benvenuti oggi siamo ospiti al samsung district e parliamo di memorie tecnologie ssd memorie flash tecnologie per le quali sicuramente samsung è riconosciuta in ambito consumer ma in realtà parte da lontano la storia su queste tecnologie siamo molto riconosciuti in ambito oim in quando nel corso degli anni ci siamo focalizzati prima di tutto nell'offrire prodotti affidabili sicuri e performante a questi clienti e recentemente siamo entrati anche nel mondo consumer come dicevi tu siamo molto riconosciuti nell'ambito degli ssd consumer un po meno in questo momento a livello enterprise dove invece forniamo di prodotti che sono il fiore all'occhiello della nostra azienda e rappresentano state of art della tecnologia domini applicativi all'interno dei quali la tecnologia flash ha espresso in termini di potenza affidabilità sicurezza tutto il suo potenziale sono quelli che poi rappresentano oggi i che stadi per eccellenza di samsung sì esattamente oggi il popolo ci conosce per le applicazioni consumer computer soprattutto e gli ssd applicati a quel segmento tuttavia come diceva matteo lo sfruttamento della tecnologia lo stato dell'arte della tecnologia samsung è applicabile su soluzioni che vanno dal nas storage server workstation applicazioni grafiche laddove serve sempre un workload più elevato tempi di gestione dei dati velocissimi e soprattutto sicurezza del dato ma entrando nel merito di quelli che potrebbero essere proprio le applicazioni dove la tecnologia flash oggi potrebbe esprimere al meglio dei loro potenziali quali sono le applicazioni la flash va ovunque applicazioni oggi sono tantissime soprattutto la gestione dei dati servono soluzioni ssd che consumino poco è il problema principale dei data center il consumo energetico oggi di energia purtroppo se ne dispone poca quindi avere i prodotti scegliere i prodotti giusti all'inizio è la soluzione migliore per affrontare i costi in un certo modo a livello enterprise nella strategia di samsung c'è indubbiamente quello di rafforzare con so di consolidare un posizionamento di leadership rispetto a queste tecnologie ecco quali sono gli aspetti in termini di ricerca e sviluppo e anche di posizionamento di prodotti che vi consentiranno di mantenere salda questa leader come prima cosa siamo stati i pionieri nella transizione alla nuova tecnologia di memoria flash da più di due anni siamo passati dalla memoria flash planare o bidimensionale alla memoria 3d o quella che noi chiamiamo la memoria vinend sono stati spesi tantissimi soldi di tantissimi investimenti ci sono voluti molti anni per arrivare a questo nuovo tipo di tecnologia che permette a tutti gli utenti di avere prodotti più affidabili con prestazioni più elevate e con consumi energetici ridotti il futuro il futuro secondo noi sta nella interfaccia nvmi abbiamo visto che non solo nell'ambito consumo ma soprattutto nell'ambito enterprise le aziende richiedono soluzioni che possano gestire dati sempre più complessi e sempre più grandi e soprattutto un numero di attenti di utenti sempre connessi maggiori secondo noi l'unica soluzione possibile che risponda a questa esigenza è l'nvmi vedremo infatti nel corso degli prossimi anni una richiesta sempre maggiore di questa nuova tecnologia e noi come samsung abbiamo già i prodotti pronti siamo entrati prima di tutto nel mercato consumer con un prodotto che si chiama 950 pro arriveremo anche nel mercato enterprise con varie soluzioni nel corso dell'anno certo quindi un range d'offerta che copre dal mondo consumer fino alla pmi fino poi alla grande impresa mi ringrazio